Hanno trovato anche una culla di cartone per un neonato realizzata con un box per abiti accanto a una delle postazioni, gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese entrati dalla porta d'ingresso secondaria in un laboratorio tessile di Loreggia gestito da una cittadina cinese. Al lavoro c'erano 11 connazionali, tutti in religioso silenzio, intenti a confezionare capi di abbigliamento. I successivi controlli hanno permesso di accertare che solo due erano assunti con contratti regolari, degli altri nove, tre con permesso di soggiorno lavoravano in nero, gli altri sei erano sprovvisti di documenti irregolari sul territorio nazionale. Nel capannone erano presenti una ventina di postazioni, tutte funzionanti, nonché diverse stanze adibite ad alloggio in pessime condizioni igienico-sanitarie e una cucina. L'attività è stata immediatamente sospesa, la titolare denunciata, denunciati per immigrazione clandestina anche i sei stranieri irregolari.